Andrea Gandini, direttore dell'annuario socio-economico ferrarese, che sabato mattina presenta la 32esima edizione. È l'annuario 2019. Andrea Gandini, che cosa è l'annuario socio-economico ferrarese? È un'analisi molto approfondita di tutti i temi del ferrarese che facciamo solo noi in Italia. Ferrara è l'unica provincia che ha un'analisi così dettagliata e approfondita su questi temi. E su questo siamo orgogliosi perché da 30 anni facciamo questo studio, che presentiamo sabato mattina a Grisù. Quali sono i settori della realtà economica socio-economica ferrarese che vengono indagati e illustrati in genere negli annuari, ma in modo particolare in questo numero? Allora, quest'anno quasi tutti i settori sono indagati, dalla manifattura, all'agricoltura, alla cooperazione, allo spopolamento, all'immigrazione, alla sicurezza, alla criminalità, quindi alla povertà. Quindi chi vedrà l'annuario è in grado di avere un approfondimento molto dettagliato su temi complessi. Noi non abbiamo problemi di consenso elettorale, quindi facciamo un'analisi con esperti molto approfondita e quindi questo ci consente di dare molto fondo sui temi, facendo analisi e anche proposte per chi vuole poi usarle a fini pubblici, diciamo. Ecco, è diciamo un prodotto praticamente quasi unico. L'obiettivo che vi siete posti quando avete cominciato e che vi ponete oggi è sempre lo stesso? Ci sono dei cambiamenti? A che cosa serve un annuario di questo tipo? Il nostro contributo è quello di fare in modo che la società civile, culturale, ferrarese, innalzi il proprio livello di conoscenza della realtà in cui vive e possa quindi prendere migliori decisioni, più buone decisioni. Quindi lo facciamo come un servizio pubblico, ovviamente siamo finanziati da sponsor di varia natura, però chi scrive lo fa volontariamente, quindi i 70 autori ed esperti non sono pagati e lo fanno proprio come un contributo di servizio pubblico alla città e alla provincia. C'è un capitolo finale importante dedicato alla povertà, da cui si desume che cosa? Ferrara è una città povera? Quali sono le scoperte che avete fatto attraverso questa analisi? Il capitolo della povertà fa un'analisi molto dettagliata su chi sono i poveri, sulle loro caratteristiche, eccetera. La cosa interessante è che Ferrara ha una quantità elevatissima di associazioni, di volontari che lavorano per contrastare la povertà e che ha colpito anche noi, che pur conosciamo bene questo settore, per la qualità e la quantità di persone che sono impegnate in questo settore. Questo dimostra che a Ferrara c'è un forte civismo, non solo probabilmente in questa storia ma anche in altri, che potrebbe essere ulteriormente valorizzato con attività di sussidiarietà, cioè dando spazio a chi opera nel bene comune. Quali sono gli aspetti, diciamo, non dico nuovi, ma insomma inaspettati che emergono dall'analisi sul 2018-2019? Qual è il ritratto, diciamo, alcuni aspetti di Ferrara? Beh, Ferrara è una città che viene sempre confrontata con Bologna e Modena che sono leader europee e quindi risulta sempre una città fragile. In realtà Ferrara è molto meno fragile di quanto si creda perché ha un altissimo tasso di occupazione, ha buoni redditi, ha molte condizioni buone da moltissimi punti di vista e chiaramente oggi ha delle nuove e enormi potenzialità perché il triangolo industriale Bologna, Milano, Padova e Trento è il nuovo, diciamo, asse di sviluppo. Quindi noi ci collochiamo proprio su questo asse e quindi l'arrivo della Cispadana, di infrastrutture ma anche di altre cose potrebbe dare una grande spinta ulteriore alla buona base però che ha già Ferrara. Non mancano gli aspetti, diciamo, critici? Gli aspetti più critici di Ferrara riguardano lo spopolamento e le minacce climatiche. Lo spopolamento riguarda una parte consistente del basso ferrarese e il comune di Bondeno nell'alto che è l'unico che cala rispetto a una crescita sia della città che dell'alto ferrarese. E il basso ferrarese che tranne il lago Santo e Comacchio che sono in crescita vede una forte caduta. Qui ci sono dei provvedimenti importanti in corso ma non basteranno e c'è tutto un capitolo che analizza questa area interna che è una delle tante in Italia perché noi abbiamo 10 milioni di abitanti che insistono sul 60% del territorio che è quello più a rischio idrogeologico che è in grave spopolamento. L'altra minaccia è quella climatica, cioè già Ferrara ha dei problemi seri per quanto riguarda la questione della siccità, quindi c'è tutto un problema anche di potenzialità perché noi abbiamo una struttura molto forte nei consorzi di bonifica e quindi il problema dell'acqua che è una tematica di critica potrebbe diventare, sebbene analizzato, un elemento anche di potenzialità perché investendo in questo campo noi potremmo fare di una criticità un potenziale. Siamo in un anno particolare, anno di elezioni, elezioni europee, elezioni amministrative, ricambio ecco e sono elezioni che cadono in un momento in cui qualcuno ha detto si assiste non soltanto a Ferrara, non soltanto in Italia ma in Europa e anche in altre parti del mondo ad un cambiamento di paradigma, un crollo dell'elite e una succede, come dire, nuove elite che prendono nel posto delle vecchie elite un po' lo sbando. Ecco, in questo ambito qual è l'aspetto che più caratterizza Ferrara in questo momento? Ma dal punto di vista, diciamo, del cambiamento io credo che la città ha delle buone basi di partenza. E' chiaro che chi governerà si troverà di fronte a sfide rilevanti per cui se, diciamo, studia bene, mi viene da dire, il nostro annuario è in grado di cogliere anche tutta una serie di proposte che noi facciamo, molto dettagliate anche, per poter indirizzare la città e la provincia su un nuovo sentiero di sviluppo. Certamente nell'annuario non ci sono slogan, ci sono molti approfondimenti e molti aspetti approfonditi, quindi chiunque prenderà in mano la città non sarà semplice perché comunque la complessità non ha risposte semplici e quindi la questione non è facile per nessuno.